2018 le dolomiti conoscono vaia la più violenta tempesta degli ultimi 50 anni in italia un anticiclone extra mediterraneo che coinvolge 494 comuni nel triveneto esponendoli a rischio idrogeologico e abbatte 42 milioni di alberi che sono quelli che vengono tagliati in trentino in cinque anni ecco sono stati spazzati via come stuzzicadenti in una sola notte questa calamità naturale favorita dai cambiamenti climatici in atto nel nostro pianeta ha lasciato una grande ferita nelle comunità del triveneto e delle dolomiti ed è così che io federico e paolo che abbiamo vissuto sulla nostra pelle gli effetti devastanti della tempesta varia quindi dei cambiamenti climatici abbiamo pensato a un modo per reagire a questa a questa difficoltà a questa sfida e cosa abbiamo fatto abbiamo pensato a un modello da applicare in questi territori colpiti che tocca quattro punti il primo punto è recuperare una preziosa materia prima che altrimenti andrebbe sprecata e parliamo degli alberi abbattuti dalla furia della tempesta quindi ridare vita e dignità a questi alberi attraverso un oggetto secondo punto quindi realizzare un oggetto unico che racconti una storia ed è questo si chiamava Y-Cube è un amplificatore naturale di suoni per smartphone consideriamo ad esempio basta appoggiare lo smartphone su questa fessura il suono viene amplificato naturalmente grazie anche ai gli abetti di risonanza che compongono questo oggetto inoltre ogni oggetto è unico perché ha una spaccatura che vedete qui che rievoca la ferita nella foresta e che è diversa per ogni oggetto e quindi è un segno di unicità e di design che caratterizza ogni nostro oggetto terzo punto collaborare con segherie boscaioli artigiani locali quindi coinvolgere tutta la comunità e tutta la filiera sociale per la realizzazione di questo oggetto e quindi toccare un altro punto che è quello della sostenibilità sociale quarto punto fondamentale creare un impatto positivo per l'ecosistema naturale albero un nuovo albero per ogni oggetto venduto oggi noi siamo arrivati a piantare 30.000 alberi in tutti il triveneto dal veneto al trentino fino al frio di venenza e giulia perché abbiamo pensato che oltre al progetto di economia circolare che sta dietro lo Y-Cube fosse bello portare un messaggio di rinascita per ricostituire l'equilibrio di questo ecosistema compromesso la startup Laia si basa su questi quattro pilastri che fanno parte di un nuovo modo di fare impresa che tocchi tutti gli aspetti della sostenibilità quindi etica società comunità territorio ambiente e rimescoli in un'unica ricetta la nostra startup nasce in risposta ai cambiamenti climatici in atto nel nostro pianeta per amplificare un messaggio per sensibilizzare rispetto a quelli che sono i temi legati ai cambiamenti climatici e abbiamo pensato di farlo in questo modo innovativo quindi pensando a come da una difficoltà come da un problema si possa trovare non solo una soluzione creativa ma anche si possa imparare si possa trovare un modo per rialzarsi dopo una caduta ed è così che la tempesta vaia dall'essere una calamità naturale è diventata per noi un modo per reagire e trovare la nostra strada una strada che ripercorre tutti quelli che sono i punti che vengono toccati anche dall'agenda 2030 quindi rispetto per il territorio per l'ambiente per le comunità locali per l'artigianato tutto questo sta nel DNA di varia capacità che abbiamo noi esseri umani di trasformare un episodio di difficoltà un errore in un qualcosa che ci possa far crescere che possa essere un'opportunità di apprendimento inoltre ogni oggetto che realizziamo nasce da quella che può essere considerata una materia prima di scarto in realtà noi crediamo che nell'ottica dell'economia circolare non esista lo scarto esista piuttosto un nuovo modo di concepire la produzione che deve passare dalla capacità di rinitalizzare di ridare dignità anche alle materie prime che crediamo possano non essere utili per la nostra attuale società e che soprattutto il modello di varia possa essere l'ispirazione per pensare alla produzione di oggetti non come qualcosa che va a togliere a operare il patrimonio naturale ma che vada a reintegrare le risorse naturali di un ecosistema e quindi che vada a rendere alla natura a restituire Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti